Il maltempo che sta flagellando l'Emilia Romagna sta causando importanti disagi anche alla circolazione in Toscana. Noi siamo nei pressi dell'entrata di Sansepolcro sud della E45, adesso interdetta ai mezzi pesanti. C'è una frana nel tratto romagnolo della E45 per questo la decisione di interdire al traffico pesante l'arteria. Di concerto con le prefetture di Arezzo e Forlì Cesena, scrive il comune di Sansepolcro, è stata disposta una deviazione ai mezzi pesanti a partire da Sansepolcro sud, dirigendoli verso Arezzo. Sul posto, personale ANAS e forze dell'ordine per dare le corrette indicazioni. Io arrivo da Roma, devo andare in provincia di Venezia, però non è stato indicato prima questa chiusura. Adesso è tantissima strada a tornare indietro, si consuma il guadagno così. Questo turista vorrebbe andare a Bagno di Romagna, per lui al momento non ci sono soluzioni alternative, soltanto un caffè. Ai mezzi pesanti viene comunque garantita la percorrenza fino all'uscita di Pieve Santo Stefano sud. Io da Umbetide. Da Umbetide dove devo andare? Adesso devo andare a Pieve Santo Stefano che Prato. Perché? L'hanno deviata da qua? No, per Pieve Santo Stefano no.